Notizie dalla famiglia? Sono fuggiti da Palaven. Ci è mancato poco, ma stanno bene. Accogliamo con gioia ogni buona notizia. Vorrei solo riceverne di più. Perché? Ho preso una decisione difficile con il Primarka. Ha detto che stanno decimando le nostre flotte. Gli ho suggerito di interrompere ogni operazione d'attacco contro i razziatori. Una ritirata totale? Attualmente l'unico modo per salvare Palaven è ritirare le nostre navi per il crucivolo. Ma se dovessi sbagliarmi, molte famiglie Turian non saranno fortunate come la mia. Se ti consola, al Primarka io avrei dato lo stesso consiglio. Già, siamo tornati alle decisioni rapide e spiedate. A proposito, ho saputo che Salarian ci stanno aiutando. Come ci sei riuscito? Ho fatto in modo che la cura della genofagia non funzionasse. Era il prezzo per la cooperazione dei Salarian. Qualche anno fa l'avrei ritenuto un prezzo eccessivo. Ma ora, se mi avessero proposto un patto per salvare Palaven, non so cosa avrei fatto. E Mordena ha consentito? Beh, con un po' di persuasione. Ah, quell'infido Salarian. Non posso crederci, hai fregato Vrev. Puoi biasimarmi? Per niente, anzi, ti ringrazio. Vrex avrebbe capito tutto, ma forse Vrev è troppo stupido. Non andrò certo a raccontargli tutto, ma... Wow, lui non sa niente. Hai fatto il doppio gioco. Ricordami di non giocare mai a poker con te.